Ragazzi si va a completare Vedete? Trova gli avversari in modalità giocatore singolo Vi da 5 stelle e a me me ne mancano 5 E poi dopo ci scioppiamo tutto questo fino all'omega Perché io non voglio aspettare 2 giorni Quindi ragazzi andiamo in singolo Sopravviviamo a ste 50 persone E vediamo come va Daie Ho dimenticato di scendere Era andato a fare A mangiare in cucina Porca vacca Ho detto oddio Porca vacca si è spostato ora Cioè pensavo che era più forte Andiamo a condotti confusi Voglio fare almeno qualche kill Voglio probabilmente vincere insieme a questa partita Non so quanto durerà raga Però durerà pochissimo sto video Veramente molto molto poco Allo scopo del video raga E acquistare omega Che è la skin più bella del gioco È la skin più bella di tutti i pass Ecco qua Ovviamente poi c'è John Wick Però raga la metterai in secondo piano Cioè nel secondo posto Nella mia virtuale classifica Però stava anche il cavallere nero Ci sono tutti neri Se ci facciamo caso Oh cavallere nero Oh cavallere nero Ok Vado qua dietro Ha laggato a me Comunque raga Doppio pompa Meraviglioso Si deve fare solamente avanti questo Si è nascosto Lanni No zio così ti prende quello Dammi la mela Sbagliato Ho sbagliato Ma non ho colpito in testa Ma non ho colpito in testa Ma non ho colpito in testa No Mi ha fatto passare All'attraverso Ma c'è stato un altro due Ah sto pieno di legno Raga tutti i fortini Comunque Fortino Fortino Vediamo se riesco a prendere Ma se questo accade Prefire Un salto prevedo È caduto giù Mi ha dato l'atterrage Mi ha dato la kill Un salto prevedo Un salto prevedo Ok raga L'abbiamo completata Questo è l'importante Mamma mia Guarda questo Mi ha fatto cadere Ho costruito pure male Vabbè fa niente raga Fa niente Andiamoci a riscattare Questo oggetto Assolutamente Eccolo Qui Mamma mia raga Uno due tre quattro Vai Quattro Non ce la faccio Vai Andiamo Acquistato Va bene anche cento Perché noi Ora Andiamo ad acquistare Il prossimo raga Tra l'altro Con le voci di mio fratello Però è stupido Raga Dovevo farlo solo lui Vai Boom E si va a zero E si va a zero E tutte le armature E tutte le armature E tutte le armature Complete Mamma mia Mamma mia Bello 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 Guardatelo Qua Mi piace modificare Il suo stile Allora Io Perché Livello armatura Fase 6 Che devo fare Per avere La Quel pezzo Cosa devo fare Non lo so Vabbè raga Aviamoci sto piccone Che è troppo figo Salva ed esci Mettiamocelo già Ok Eccolo qua E come faccio Ah ecco qua Raggiungi il livello Stagionale 80 Vabbè raga Sono tante easy Cioè è bello già così Però voglio i colori E devo raggiungere Però il livello 80 La mia Da 200 Esperienza Ah Ma mi danno l'esperienza Se salgo di livello Bene Bene raga Meglio così Quindi raga Stiamo a posto Modifichiamo il suo stile Magari Perché non lo posso avere Ah perché io modifico Solo la testa Forse devo fare le partite Raga Con sto coso Sapete Non lo so Perché ora l'hanno messo In queste cose Non capisco niente Però raga Prossimo video Con l'Omega Raga Prossimo video Con l'Omega Signori Iscrivete al canale Se siete iscritti Mi raccomando Era un video Tipo di aggiornamento Iscrivete al canale Commentate E condividete Ho messo gli iscritti Attivi Finalmente raga Le ho levati Per un motivo Di privacy Cioè Sono motivi miei Che già ho spiegato Andatevi a vedere Quel video Che è tipo L'ultimo vlog Andate a vedere quello Signori Bella